Mentre si avvicina l'anniversario dell'uccisione di Natascia, la cuoca di Massanzago, uccisa da un pizzaiolo campano nel parcheggio della scuola elementare nel maggio scorso, per ricordare questo tragico fatto di cronaca, i panifici del territorio di Trebaseleghe e dei comuni limitrofi distribuiranno sacchetti di pane con la scritta La violenza è il pane quotidiano di molte donne, una scritta accompagnata dal numero verde 1522 del centro antiviolenza per sensibilizzare l'opinione pubblica sul tema della violenza contro le donne. In calendario anche corsi, convegne e altre iniziative. Il giorno dell'anniversario, il 18 maggio, verrà piantato un albero a indicare la speranza di una nuova vita per tutte le donne.